Quest'anno siete stati l'unica squadra a livello regionale, ma pensiamo anche a livello nazionale, ad avere come sponsor la BMW. Vanno selezionato loro come marketing, vanno cercato loro ed è con quella che andrete agli europei? No, guarda, allora i sponsor, la BMW è chiaramente lo sponsor più importante che abbiamo, adesso alla fine ne abbiamo anche, voglio dire, sulle maglie siamo andati a fare i nazionali con un altro sponsor, Mariotti Massimo ha un'autofficina, un noleggio uguale, perché ci piace andare via noi ben comodi, allora cerchiamo i sponsor che ci proteggono. Come dicevo prima, fratelli Contini, il problema non è che ci hanno cercato loro la BMW, è tra marchi importanti che si inseguono a vicenda.